Ma ciao! Da quanto tempo non ci vedevamo, eh? Tipo, pochi giorni, ma chi se ne frega! Ciao, continuiamo. Ah, giusto, ah, finiti qui. Che Pokémon abbiamo? Zimbabwe, scritto sbagliato. Mocho e A. Ottimo. E A è Twitter, ma siamo razzisti, quindi non lo contiamo. Patto della foresta 3! Sentite il mio inglese. Sto cercando un nuovo membro ad aggiungere al mio team. Ok. Ma quello è Komor. No, non puoi mettermi davanti un Ambipom. Cioè, questo è peggio di Snakewood che mi piazza davanti i Pokémon al 100 quando io ce l'ho ancora al 60. Non devo passare di libero. Uh, bello. Perché no? Yes! E lo chiamiamo Cushy. Penso che zio vada bene. Ciao, Gary. O blu. Green. Che ne so. Sì, bla bla bla. Mio figlio si evolve. Ottimo. Osservate la manliness di questo Pokémon. La bellezza. No, 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 no. Lo Smogonbird non lo catturo. Volevo fermarti prima che tu andassi a berri. Ho visto che hai sconfitto qualche tizio forte da quando siamo arrivati qua. E chi dice di fare una battaglia per testare chi sia il più forte? Facciamolo. Io veramente non ho consentito però. Tu pensi di sconfiggere il mio Zimbabwe? Idiota. Alla bacca c'è. Ah no, bacca arancio. Sì. Muorici. No. Davvero? Ah, qualche mossa ghiaccio magari. No. No. Fai qualcosa. Yes. Impressive. Ci vediamo, guida. Vattene. Devo anche andare a curarmi per colpa tua. Grazie. Ancora lo Smogonbird. Vai via. Ma non ti vuole nessuno. Nessuno ti ama. Sei peggio della gente che non ha fantasia nei team. Ti trovi sempre Landorus, Totem e Itran. Per cui qui ci sono sempre. Oh, Alfred Gammon. Anche se qui sarebbe il secondo Pokémon buio. Akab. Yes. Yes. E lo chiamiamo Cushy. Alfred. Ah, ok. Se ci teneremo sola. Boh. Ah, era una side quest, penso. Oh, no. Ci sono i tipi. No. Devo andare a curarmeli ogni volta. Attacchi scatole. Mai mettere le borse curative da qualche parte. Come in Scarce Edition. Ma no. È un'idea stupida. E ci devo tornare sempre ogni volta alla città. E così viene fuori l'idea che questo gioco sia difficile. No, non è difficile. Cioè, sì. È difficile. Ma è lungo e tedioso. Tornare ogni volta al letto per curarsi. È come nei combattimenti in Zelda Skyward Sword. Non è che siano difficili. Perché alla fine aspetti che il nemico scopra il suo punto debole e poi attacchi. È che sono lunghi, quindi ti danno l'illusione di essere difficili. Ma dettagli. Non siamo qui a parlare di Zelda, a fare l'Igoraptor Fag. Che aveva anche ragione a parlare di Skyward Sword. Vabbè. Vabbè, non siamo qua a fare puntigliosi. Why, why? Ma che cazzo succede? Aspetta che hai regguito la vita. Torno subito. Ah, perché ho citato la side quest del vecchio. E a quanto pare, quel bastone era suo. Guarda quanto è patetico. Magari possiamo evocare i nostri Pokémon e ferire questo Maciocchi un po' di più. Stai zitto. E io lo aiuto. Bastardo fortunato. Ehi. E ora c'è l'altro. Ah no. Sembra che questo Maciocchi stia sanguinando molto. Sì. Yes. Gradazione in box. Ok. Tu? Benvenuto a Barry City ma non toccare niente. Seriamente. Non toccare niente. E... Ok. You shall not... No, ti prego. Gandalf a caso. WINGY! Dove sono? Ah, foresta patto 4. Oh, ma che? Oh, devi ess... Oh... No! Facciamo una cosa intelligente. Interrompiamo qua l'episodio. Per il prossimo mi alleno. E poi proseguiamo. Anche perché mi fanno un attimino il culetto quelli lì, eh. E signori, la parte si interrompe qua. Grazie per averla guardata come al solito. Mette un like, altre cose. Non lo so, spammate. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!